Una settimana di stop per continuare ad assimilare schemi e dettami tattici e ricaricare le pile in vista della prossima sfida. Il Palermo torna a lavorare dopo il weekend di pausa in vista del match contro il Venezia che si giocherà domenica pomeriggio con fischio d'inizio alle 18 al Renzo Barbera. C'è da cancellare al più presto una sconfitta, quella di Cosenza che ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca. Per Corini ci sarà l'opportunità di adottare qualche cambiamento nell'undici iniziale e in particolare rivedere in campo sin dal primo minuto Marco Sala. Il terzino è al rientro dopo l'infortunio e dopo la panchina di Cosenza potrebbe ritrovarsi in campo contro il Venezia in considerazione delle assenze e dei giocatori impegnati in nazionale. Nell'ultimo fine settimana con il torneo di serie B fermo il Palermo si è dato da fare al tenente onorato con l'amichevole contro la formazione primavera di Di Benedetto. La squadra di Corini si è aggiudicata il test con il risultato di 3-0 con le reti di Vido, Soleri e Brunori. La fiducia di Nicola Valente al termine della gara di Bocca di Falco. Diciamo che non abbiamo mai staccato la spina, ci stiamo allenando al meglio per arrivare al Venezia al meglio. No, è chiaro che devi pensare che hai buttato una partita perché comunque meritavamo molto di più, però la squadra c'è, sta maturando e è sotto gli occhi di tutti, quindi continuiamo così. Se fosse una prima in classifica noi non la dobbiamo guardare e dobbiamo affrontarle tutte nella stessa maniera come abbiamo affrontato il Parma, come abbiamo affrontato il Genoa, anzi anche di più perché comunque verranno qui per affrontare il Palermo e noi saremo pronti.